Ha raccontato con i suoi scatti 700 gran premi, fino a domenica nella sala consigliare di Vedano all'Ambro, la mia Formula 1, mostra del grande fotografo Ercole Colombo, che è nato e vive proprio a Vedano. All'inaugurazione un ospite davvero d'eccezione, Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group, nonché genero di Ercole Colombo. Ha sposato nel 2011 la figlia Silvia. La Formula 1 in grandissima salute, grazie al cielo. È un momento dove la crescita di tutto il movimento è straordinaria in tutto il mondo e quindi sono felici di poter condividere questo momento oggi che siamo qui a Monza, in un posto storico straordinario dove c'è la necessità di guardare sempre al futuro per migliorarsi. Quindi felice, tante sfide, ma ripeto, la base di partenza non è mai stata così solida. L'augurio, ma è l'augurio da un ex ferrarista, 23 anni in Ferrari, con il cuore che si è formato a Maranello. Non può essere che riprendere velocemente il percorso interrotto da un po' di tempo, che però dovrà riprendere in fretta e presto. E quindi, ripeto, questo è il mio augurio di cui sono anche abbastanza sicuro che possa, come dire, prendere spunto per riportare la Ferrari dove giustamente merita di essere. Stavo cercando di guardare con la cosa dell'occhio alcuni momenti in cui ero presente, quindi è difficile tirarne fuori uno solo. È veramente difficile. Beh, un pilota, ovviamente, Michael. Michael è nei cuori di tutti noi. Vedo le foto, probabilmente, mi stai riprendendo bellissime, straordinarie, di momenti che ho vissuto con lui. E quindi sicuramente Michael, ma vedo anche Fernando. Fernando sta facendo ancora adesso una stagione straordinaria. Tantissimi ricordi di Colombo che a novembre compirà 79 anni, una vita passata tra le monoposto e i piloti che hanno fatto la storia di questo sport. Se voi passate attraverso le varie foto potrete rivedere dei momenti, diciamo, cruciali delle corse, oppure i piloti più famosi, quelli che sono stati più amici, cose che magari la televisione non ha fatto tempo a fermare, come, non so, troverete lo sguardo di Senna che guarda il sole al tramonto, oppure il famoso traverso di Gilles Villeneuve, oppure qui vicino Ackinen, che dopo il ritiro della gara mi aveva chiesto qual è la strada per andare ai box, e ho detto, beh, ti accompagno io, vieni. Dopo un po' mi supera e corre, io faccio più fatica con tutti i teleobiettivi, e poi si ferma e dico, oh cavolo, sta male, ho pensato, vado lì, mica, mica, eh, poi vedo che piango, e ho detto, beh, allora ti faccio una bella foto. Questa foto, pensate, l'ho data all'Associate Press, in un giorno ho fatto 28.000 pubblicazioni nel mondo. Momenti belli, ma anche tristi, Ercole Colombo ricorda così, il primo maggio 1994, quando a Imola perse la vita Ayrton Senna. Prima della partenza, sullo schieramento, Ayrton stranamente quella volta è arrivato e ha tolto il casco, cosa che non faceva mai, era lì veramente concentrato, ma pensieroso, si vedeva che non era felice.